come mai calcolate che sono le dieci del mattino eh dieci vediamo poi stasera le dieci come siamo eh questa è la prima volta che si vedono i capelli sciolti one step and after straight to the camera ok ehi sono sempre io che ero quello di prima azione motore oggi faccio l'aiuto regista ok va bene allora facciamo una prova eh ad aspettare un tempo come mai ma chi sarai per farmi stare qui qui seduto in una stanza pregando per un sì come mai ma chi sarai che fare questo a me non ti interi ad aspettare ad aspettare ad aspettare dimmi come mai ma chi sarai sperando di vederti ancora qui basta fumo si gira si gira fumo festa grazie più o meno è un dieci ore e quattro insomma tutto sommato non è male ma proprio qui più o meno qui bisogna un'inquadratura ballo senza musica tutti i piedi un grassissimo ciò a tutti da Claudio Cecchietto vai dormire fumo grazie giù la musica giù la musica questo è fondamentale eh cameriere è aspettato due giorni per bersaglio mi raccomando azione motore dai cameriere scherzate ridete manco non è riuscito a fare qualcosa dai mi segno di noi ma faccio ha 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 ha